Giovanni è uno dei tre agronomi del Cusumano, abbiamo un agronomo responsabile per ogni singola proprietà, per ogni singolo vigneto, Giovanni è responsabile per questo, per il vigneto Ficuzza. Quindi se le uve sono buone, Giovanni fa un buon lavoro, se le uve non sono buone, rischia moltissimo. Qui vi abbiamo portato a Ficuzza perché è una delle proprietà più importanti, è una proprietà unica in Sicilia perché trovare un altro vigneto a 800 metri di altitudine con le caratteristiche di questa azienda è impossibile. Giovanni comunque vi darà maggiori informazioni sulle vigne, su ciò che abbiamo qua in questa particolare tenuta, sul progetto particolare che abbiamo iniziato circa sette anni fa per realizzare soprattutto i vini bianchi perché questo è un posto vocato per vini bianchi in particolare. E per i rossi precoci, a maturazione precoce. Quanto è a te di Giovanni? Qua sono cento vitati, sono cento ottantano, ottantacinque. Perché queste costruzioni, questi mostri, c'erano già quando abbiamo... A chi? Ok. Ok. C'è un progetto per ristrutturare questa casa che è un baglio antico, sì. Faremo delle camere, sarà una guest house. Una casa per... Oh, fantastico. Ma va a lavorare con agriturismo? Probabilmente, probabilmente. Perché è bellissimo, no? È molto bello, è molto bello per chi vuole un po' di aria fresca, pulita, silenzio, è un posto veramente ideale. Grazie. Grazie. Certo. Buongiorno. 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 Grazie a tutti.